Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 Allora in questo episodio andremo a vedere la nuova auto che è uscita oggi La vedete nella piccola miniatura laterale E' una nuova Sentinel, diciamo nuova tra parentesi E' la Sentinel Classic Ha un costo abbastanza elevato, 600 e rottimina Quindi so bei soldini E andiamo a vedere le modifiche che ha La trovate comunque in San Andreas Super Autos ragazzi Diciamo che ha parecchie modifiche Non è il top del top Però comunque se piace questo genere di auto E se vi piace per esempio la Carinfuto Questa penso che sia un'auto che potrebbe piacere Perché comunque è abbastanza gagliarda come auto L'unica pecca che io ho visto anche da un mio amico Quest'auto in pratica che si può fare tutta sticky bond Tranne diciamo gli sportelli E il tettuccio Poi ci sono delle varie livree come state vedendo Io metterò questa Diciamo che c'è una buona scelta Per essere un'auto di San Andreas Super Auto C'è una buona scelta Chiaramente ragazzi Io ripeto sempre Come dico in tutti i miei video di tuning Deve innanzitutto piacere l'auto Perché se non vi piace non direi che va a comprare Che la tenete lì solo per dire Oh c'ho l'auto ce l'ho tutte Non è una figurina E quindi Insomma uno se la compra perché gli piace Ok Allora come prestazioni ragazzi Io l'ho provata Non è male È abbastanza velocina E poi è abbastanza sfiziosa Per quanto riguarda le derapate ragazzi Quindi se vi piace derapare Secondo me questa è l'auto giusta per derapare Diciamo che è abbastanza sfiziosa Per quanto riguarda il campo derapate ragazzi Poi magari esteticamente è soggettiva la cosa Può piacere come non può piacere A me personalmente questo tipo di auto piace Ha uno stile un po' Diciamo anni 80 Un po' retro Ha uno stile un po' retro Quindi a me piace abbastanza Però come ho già detto Ci sono persone che preferiscono molto di più Supercar Belle Stile Lamborghini O stile Non so Qualche altra cazzo di macchina Stile Ferrari Cosa del genere Piuttosto che un'auto Retro come questa Però come dicevo È abbastanza sfiziosa È abbastanza Diciamo maneggevole come auto Come velocità Non è male Si fanno delle ottime derapate Quindi magari Prima di comprarla Fate un giro nel creatore Vedete Non so In modalità creatore Di poterla utilizzare Ci fate un giro Vedete se vi soddisfa La comprate Se non vi soddisfa Non la comprate Anche perché comunque Sono 650.000 O giù di lì Che uno deve spendere Quindi dovete pensare bene Se spenderle o meno Io come ho già detto Mi sono trovato Abbastanza Bene Con quest'auto È abbastanza divertente È cazzeggiosa Però Al di là di quello Non so se In gara Sia prestante o meno Non l'ho provata Comunque ragazzi Questa è l'auto di oggi Per il nuovo Dlc Che è stato aperto Dlc Oggi è stato aperto Il pacco di Natale Diciamo Detto questo Un saluto a tutti E al prossimo video